Ciao a tutti ragazzi, è dettoci qui per un nuovo video, oggi faremo un tutorial, guardate in fondo c'è l'alba, ah no così non si vede, si posa un po' la testa, ok non c'è più l'alba, chi se ne frega questo qua è un tutorial per tutti quelli che si chiederò come scaricare Flappyboard, Flappyboard è stato tolto da Google Play come ben sapete, anche da un po', esatto, su questi dilemmi di una vita Flappyboard non può mancare sul vostro cellulare, allora perché non scaricarlo grazie al nostro tutorial, guarda che roba è pubblicità gratuita, bellissima, quindi allora prima di tutto andiamo su questo, giusto? Esatto, anche se non lo troverete però va bene, cerchiamo Aptoide, è impossibile scrivere così, Aptoide, ci chiamo Aptoide, 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 vabbè è su Google Play, esatto Aptoide app browser dovrebbe essere questo, magari lasciamo anche caricare le immagini, c'è anche la connessione potente, più o meno, vabbè quello che dovete fare, esatto, si è questo qui, è questo qui, esatto, guardate la liconetta, e c'è scritto Aptoide app browser, voi quello che dovete fare è installare, fate, installa, guardate che inquadratura dinamiche, vabbè accettate, tanto non vi fa proprio niente, e poi lo installate, ovviamente io ce l'ho già installato, quindi possiamo anche procedere al resto, quindi uscite da, ma no è un'altra cosa, prova a installarlo, è un'altra cosa, torniamo dentro un attimo, piccolo inconveniente tecnico, anche se non possiamo tagliare, quindi installa, 36 KB, ma non è la roba piena, ma sono 36 KB, fa niente, tanto vediamo qui, intanto che installa, c'è pure lo zoom incredibile, attenzione, dov'è il fantasmino, no, no, ecco il fantasmino, aspetta, va in giù, in giù, eccolo lì, fantasmino, attenzione, fantasmino, fantasmino, aspetta, guardate il fantasmino, ma ha le cuffie, ah no, sembra le cuffie, è che bello con le cuffie, ma non ha le cuffie, è una cosa vera, e una volta aver scaricato Aptoide app browser, andate su apri, 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 e l'aprite, quindi vi verrà fuori questa applicazione, visto questa non è, direttamente Aptoide, da qua, cliccate, quello ho già fatto io, installare Aptoide, fate annulla, tutte le cose che vi dice voi fate annulla, c'è lei, tipo lì, sì, tutto quanto, aggiornamenti, cose che dovete fare, fate sempre no a voi, questa cosa qui non c'entra niente, quindi fate installare Aptoide, lo vedete questo qui, installare Aptoide, c'è scritto qua, installate Aptoide, installare Aptoide, facciamo anche noi, installare Aptoide, con internet, poi vabbè qui tu l'hai già installato, sì, io l'ho già installato, quindi voi, aspetta, vediamo cosa apre, niente, abbiamo pensato nel cavolo, no sta caricando, sta caricando, ok, quindi lasciamolo un attimo caricare, intanto non puoi stagliare, quindi parliamo del nostro canale, no scherzo, inizio download, ed eccola qui la Aptoide di Aptoide che sta scaricando, quando voi avrete scaricato, no, tanto io ce l'ho già la pick up, ve la faccio vedere dopo, quindi quando questa pick up ho finito di installare, vi apparirà questa cosa, uscite da Aptoide ovviamente, possiamo già fermare download, però vabbè, dopo, non serve, quindi andate su, ecco, esatto, il cellulare della nuova generazione velocissimo, su archivio del vostro cellulare Android, ecco, specifichiamo, questa versione per scaricare Flappyboard funziona solo su Android, esatto, non si può fare solo, andate su download e troverete qua la pick up, la pick up è con questa immagine, la vedete questa immagine? Quella immagine, è un piccolo Android, esatto, la troverete che ci sarà scritto Aptoide, Aptoide e tutte le robe lì del genere, vedete qui, non è Andocraft, vabbè, sentite la pick up a più io, giusto per capire, che figata è, guarda si è in partito di Star Wars, no? Sembrano il titolo di coda, farlo se ne ha piano, ok, va bene? Dopo che avete scaricato Aptoide, vediamo a che punto è questo qua, ha scaricato, aprite, installa il pacchetto, se voi fate installa il pacchetto e vi apparirà, ecco, questa cosa qui, l'applicazione che sta per installare, ah no, non è vero, non è questa, vi dirà che ad esempio è da sorgenti sconosciuse, voi dovrete spillare, se c'è spillare, aprire le impostazioni, aprire le impostazioni e spillare la cosa che dice, che potete installare le cose scaricate da sorgenti sconosciute, non vi preoccupate, non succederà niente, niente virus, quindi adesso facciamo Christian Flake, facciamo ok, fate ok, e vi viene fuori questo, installa, che quasi qua non è che ti hai perso, non fanno niente, non fanno un cavolo, installa, e ovviamente c'è l'installazione, guardiamo tutto, esatto, mamma mia, tutorial all'assurdo, l'applicazione non è installata, però non vi preoccupate, sul vostro non va installata, io ce l'ho già installata, per quello non me la fate installare, quindi andate su Optoide, questo qui è Optoide, aspettate, no no, ha sbagliato, tutto lì del fatto che voi ve la farà installare, quindi non vi preoccupate, non fermate qua il tutorial e voi ve la farà installare, queste qui sono le cose che vi dice, tipo aggiornamenti altre cose, cioè vabbè ragazzi, c'è un po' di pubblicità su Optoide, ma basta fare sempre no, voi fregatevene, fate no a tutte le altre robe, questi qui intanto sono tutti gli altri giochi che ci sono su Optoide, adulte, voi fate, sì, andate qua, questa iconcina, che vuol dire search, e scrivete Flappy Bird, ora scrivo Flappy Bird, in search Flappy Bird in another store, internet, ragazzi, forse per voi sarà anche un po' diversa la grafica, è un po' darsi, perché è un'altra versione di Android, è la mia la più scarsa che potete trovare, è la mia 2.3.6, ma chi se ne frega, quindi ecco qua, le aprirà questa schermata, dopo aver cercato Flappy Bird, le aprirà questa schermata, dove sotto caricheranno tutti i giochi di scorretti, scorrete, le immagini, scorrete, le immagini, scorrete, ok, ha crashato Flappy Bird, quindi rientriamo, mamma mia che bello, oh guarda l'alba, l'alba, che bella l'alba, tanto sta caricando, quindi che scrive, adesso l'anno piena, eh ma mi sa che crasha, sì, crasha perché c'è la memoria piena, oddio, quindi ragazzi, vabbè, allora, cercate Flappy Bird e vi verranno fuori tutte le applicazioni, esatto, da lì cercherete, scorrete la pagina in giù e ci sarà scritto Flappy Bird con l'immagine di Flappy Bird, schiacciate il primo nome Flappy Bird che trovate con l'immagine vera e vi aprirà un'altra pagina con scritto install, voi schiacciate install e vi chiederà installa con optoide, voi fate, schiacciate optoide, e dopo di che ve la installerà come apk, ve la scaricherà come apk e restando sempre su optoide vi apparirà un'altra pagina che vi dice installar pacchetto, voi schiacciate installar pacchetto, installerete il pacchetto, che è l'apk in pratica, e dopo di che vi apparirà questa icona tra i giochi, questa cosa qua, vera, ok, uscite, è l'icona di Flappy Bird, esatto, Flappy Bird, voi potete aprire e giocare a questo fantastico gioco, e sclerarci, e sclerare quanto volete, e poi vendere il vostro cellulare con Flappy Bird su ebay a 500 euro, non è vero, solo l'iPhone, ok, non funziona niente sul cellulare, ce la lascia tutto, ma non vi preoccupate perché la memoria è piena, sul vostro funzionerà benissimo, su questo cellulare, quindi continui a trattare di tutto quanto, ma persino lo sistema, quindi mettiamo tipo i titoli a, titoli di codex in modo perpendicolare all'immagine di tutto quanto, in modo molto strano, esatto, mamma mia questi tutorial poxera, intanto ragazzi ci vediamo al prossimo video, con il prossimo tutorial, che non sapremo dove farmo vedere, ma ve lo faremo vedere, chiedetelo, esatto, chiedetelo nei commenti, quindi magari il nostro metodo di fare tutorial è cresciuto qualcos'altro, sì esatto, magari il nostro metodo di fare tutorial non è uno dei migliori, no è uno dei, è un po' originale, esatto, è un po' originale, ma funzionano i nostri tutorial, quindi va bene, ciao a tutti ragazzi, ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi, mettete mi piace, commentate, e sostenete questo nuovo, questa nuova serie di tutorial, quindi ciao a tutti ragazzi e ad un prossimo video, bella!